abbiamo vinto sì ma caro inzaghi non sono felice inzaghi non sono per niente felice chiedimi perché perché mustang perché perché sei fissato anche tu con questo 352 perché giochi sempre alla stessa maniera tu vuoi sempre fare la partita e dopo hai visto cosa succede non sono felice perché gli avversari oggi ti hanno preso a pallonate e per quasi tutta la partita non sono felice perché abbiamo vinto grazie ad episodi arbitrali secondo me non mi riferisco tanto al rigore a favore che c'era ma a quella diciamo mancata espulsione di andanovic per me era da espulsione quel fallo c'è stata la buona fede di andanovic ma per me è da espulsione chiaro occasione da rete quella gamba indietro lo sgambetta il giocatore del sassuolo su erroraccio di devrai quindi non sono felice neanche per questo inzaghi mi tengo stretti tre punti e basta popolo di youtube io sono mustang interista con l'uccellino qua inzaghi che oggi d'aquila è diventato un passerotto perché perché poi anche alla fine si è cagato addosso anche per questo caro inzaghi diciamo che anche per questo non sono felice partiamo parliamo della partita anche se sono un po smaronato lo stesso che dire siamo partiti bene ho visto un barella e un perisic molto pimpanti per tutta la partita per me sono stati i migliori in campo premio perisic perché comunque mi ha fatto quell'assist meraviglioso a gecko come uomo partita gli do 7 però poi c'è il sassuolo viene fuori e noi il problema è che come avevo anche detto su instagram in live ieri al bar dei tifosi tu il sassuolo devi prenderlo difendere basso e ripartire questo non significa che devi subire 70 per cento di possesso palla come l'anno scorso perché è umiliante però non significa neanche che devi sbilanciarti e mettere il petto in fuori io gioco io gioco io sono più forte sì sei più forte però ti esponi all'attacco del sassuolo che è fortissimo bogà è fortissimo ragazzi skriniar che purtroppo ha fatto quel fallo da rigore skriniar è stato anche troppo bravo per me è stato bravissimo skriniar io gli do lo stesso 6 a skriniar nonostante il rigore per me skriniar ha fatto una gran partita in fase difensiva in fase offensiva male ma perché perché tu continuando a giocare a 3 ti trovi con skriniar e bastoni quando gli altri sono coperti che devono impostare bastoni ancora ancora forse ce la fa anche se oggi a me non è piaciuto gli do 5 e mezzo né in impostazione né in difesa e con skriniar anche non è uno che dà impostazione qualche volta ti fa la percussione sì ma non capisco perché ostinarsi ancora con sta cazzo di difesa 3 con giocare a calcio a tutti i costi mettere il petto in fuori cioè qualche volta devi anche essere umile e giocare di ripartenza allora poi detto questo sassuolo ci prende a pallonate noi nel primo tempo non abbiamo fatto praticamente niente anzi anzi dopo che ci fanno il gol del vantaggio sul rigore che c'è e skriniar se ne rende conto perché è un giocatore intelligente capisce di aver sbagliato rigore berardi tira andanovic intuisce per me oggi andanovic ha anche fatto una buona partita guarda gli do anche 6 più guarda oggi ad andanovic ha fatto il possibile il rigore anche ha intuito però era imprendibile e dopo arriva il finale del primo tempo con quel passaggio di merda di devrai al quale io anche se ha fatto delle salvataggi in difesa io do 5 perché una cosa così da lui non me l'aspetto mai ha fatto un errore vergognoso e dopo andanovic ha provato a rimediare ce l'ha fatta anche se ha sbagliato l'arbitro anzi ha sbagliato il var per me non l'arbitro perché come ho detto anche i miei amici del milan dopo milan atletico il problema è il regolamento var gli arbitri non vanno più a rivedere che cazzo succede gli dicono gli fanno le comunicazioni dalla sala var non 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 a volte neanche guardano secondo me cioè danno ragione all'arbitro alcune cose sorvolano c'è proprio per me proprio regolamento del var che quest'anno fa cagare e ci saranno tanti tante altre situazioni come questa come il rigore la dell'atletico ce ne saranno tante quest'anno ma non è un problema dell'arbitro è un problema di regolamento del var per me vabbè secondo tempo allora in zaghi dimostra coraggio perché comunque mette dentro giocatori freschi che hanno voglia che fanno la differenza perché anche gecko entra e fa la differenza gli do un bel 6 e mezzo comunque perché si trova al posto giusto al momento giusto sia nel momento in cui prende il rigore sia nel gol che poi però la peris il gol per me è di perisic soprattutto gli ha fatto un cross della madonna e poi la cosa che mi complimento per cui mi complimento con gecko che è andato a riempire l'area poi dopo oggi in corso per me gecko va meglio bisogna metterlo in corso e non bisogna più metterlo titolare in corso secondo me va molto meglio gecko anche se correa oggi ha fatto una brutta partita gli do 5 male correa lautaro anche a lui do 6 e mezzo comunque si impegna fa tanto e comunque poi dopo segniamo anche il 2 a 1 con però una partita che è da una parte dall'altra da una parte dall'altra perché ovviamente poi sei sotto devi fare il gol e tutto quanto e quindi la partita inevitabilmente diventa così noi abbiamo avuto un grande carattere e questo lo riconosco e do il merito anche a mister in zaghi per questo è assolutamente lui ha dei meriti e che se giochiamo in questo modo è anche merito suo assolutamente è non è che gli sparo solo merda anche perché a me è simpatico e quindi dopo grazie a questo riusciamo andare in vantaggio abbiamo anche occasioni per fare il 3 a 1 anche sassuolo alle occasioni per pareggiare abbiamo rischiato anzi addirittura per ritornare in vantaggio per fare il 2 a 0 con rogerio e bogà e poi noi niente insomma teniamo dopo alla fine fa un cambio un po da caga sotto nel mettere d'ambrosio però va bene dai magari ci sta anche perché poi noi abbiamo gestito bene lo accetto non mi piace il fatto il fatto del caga sotto però va bene dai lo accetto per finire in zaghi guarda perché abbiamo vinto per il carattere che tu trasmetti alla squadra ti do 6 però ti prego elasticità mentale io non ne posso più di vedere sempre il 3 5 2 di giocare sempre alla stessa maniera che mi piace a me questo gioco però tu non puoi giocare sempre uguale capito è un problema anche se tu giochi il calcio che a me piace di più non devi sempre proporlo cambia qualche volta ci vuole equilibrio una volta bisogna essere più propositivi una volta bisogna anche essere più una squadra che arretra e che riparte hai capito in zaghi quindi io ti do 6 però con nota di demerito ecco e quindi spiazza vasta spero di migliorare 3 5 2 a vita ma se mi dici così allora non migliorerai mai vabbè dai vi saluto comunque tre punti importanti iscrivetevi al mio canale se volete se volete mettete mi piace seguitemi su instagram sempre forza inter ciao